Un week, buon venerdì, siamo qui live come sempre per commentare un po' di news, parlare ovviamente, parleremo ovviamente del film della settimana, Dune parte 2 che è arrivato da poco nelle sale, si è già confermato il favorito del pubblico italiano, ma ci sono anche un po' di news di cui possiamo parlare, ovviamente sono iniziate le riprese di Superman, sono state diffuse finalmente le prime immagini del reboot del Corvo, esiste questo film? Esiste, noi non ci credevamo invece esiste, queste immagini lo dimostrano, e sono anche iniziate le riprese del nuovo capitolo della saga Tron, nel frattempo vedo che è arrivato Ale, si unirà, ma già lo fate, ci trovate anche su TikTok, su YouTube, su Facebook, su Twitter, che non si chiama più Twitter, ma si chiama X, insomma seguiteci, 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 Ale dovrebbe essere arrivato, ciao! Eccolo, buonasera, 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 allora, niente, è una settimana bella pregna questa, ho detto parlere, anzi no, in realtà mi parlerete, aspettiamo che arrivi anche Andrea e mi parlerete un po' di Dune, perché io purtroppo non sono ancora riuscito a vederlo, perché nella mia città non c'è un cinema e ho la macchina dal carrozziere, quindi niente, lo vedrò domani, lo vedrò domani, però insomma, penso che siamo tutti, non ho mai visto un plebiscito, cioè tutti d'accordo nel dire che questo film è incredibile. Ciao Andrea! Buonasera, buonasera, ciao a tutti, Fili, io non ho capito quando è che vedrei Dune, perché ovviamente la live poi si è interrotta e mi ha fatto entrare, quindi mi manca la chiusura. Lo vedrò domani, lo vedrò domani, ok, purtroppo, purtroppo senza macchina non posso, devo prendere per forza la macchina per andare al cinema, e quindi è così, è una vita triste, la mia, tu ti sai che è successo? No, no, chissà, stavo pulendo l'obiettivo. Ma sei un grande professionista. Ma non è professionista? No, vabbè, regà, è sgranadissimo, cioè palesemente il telefono in tasca era uno schifo. Va bene, va bene, è benissimo, questo è il momento in cui cazzeggiate, perché io metto nei commenti gli argomenti appunto di questa live, quindi cazzeggiate, prego, fate, dite, dite quello che vuole. Io sono andato a vederlo, il film, non sapendo, ero convinto di andarlo a vedere il 29, che uscisse solo il 29, perché non ci sono cinema di space qui in città, e invece anche qui hanno fatto l'anteprima del 28, e quindi sono riuscito a vederlo il 28 solo. Ah, bello, bello. La sala era piena, il film mi è piaciuto molto, mi è piaciuto davvero tanto. Benissimo, ma ne parleremo in maniera più approfondita tra un po', prima commentiamo un po' di news, Andrea. Un po' di cose a caso. Un po' di cose a caso. Alessandro, tu sei riuscito a rivedere Slam Dunk, che l'hanno ridato al cinema? Nemmeno io. E qui non l'hanno fatto. L'avevo visto però, l'avevo visto già due volte, perché l'avevo visto il giorno dell'anteprima e poi l'ho visto con mio amico quando è uscito qui al cinema, quindi l'ho visto già due volte. A questo punto si aspetta il Durei quando esce. No, io volevo, però effettivamente l'hanno fatto sabato, domenica e mercoledì. Sabato e domenica, solo tipo alle 15, quindi proprio pomeriggio pieno e non mandava, sinceramente. Pensa che io domani andrò a vedere Dune alle 14. Ma Dune su tre ore ci sta, anche perché voglio dire, però nel senso, Slam Dunk è buttato così, senza alternative. Poi mercoledì c'era alle 9, solo che mercoledì lavoro e cose varie, ho detto, vabbè, già l'ho visto, aspetto il Blu-ray, è andata così. Io ho visto su Dune una recensione, in realtà era il parere di una ragazza, era stata l'anteprima ed era bellissimo, perché diceva, mi sono addormentata e non ho visto gran parte del film. Il primo non l'ho visto, quindi i personaggi non li conoscevo, però è un film di combattimenti. Bellissimo. La definizione film di combattimenti è bella, perché poi alla fine combattono, non è che puoi dire no, non è vero. Film di combattimenti. Com'è Dune parte 2? È un film di combattimenti. Film di combattimenti, lo riassume perfettamente, ma prima è arrivato l'inverno a Metropolis, lo sapete? Ce lo dimostra la prima immagine di Slam Dunk. Cioè, abbiamo le diapositive anche oggi. Ma che bello, capito? Cioè, quanto siamo diventati interabili. No, ma un tempo Instagram, non so se è un bug del mio, però permetteva di pubblicare le immagini durante la live. Io non ho più il pulsantino, cioè non lo trovo più, quindi non me lo fa fare. E quindi dobbiamo utilizzare le diapositive queste. Quindi, notare che come sempre ho specchiato il logo per farlo uscire. Un grande live, se non si vedeva la S. Che professionista! Sono dei tocchi di classe incredibili. Comunque, sono iniziate le riprese di quello che un tempo conoscevamo come Superman Legacy. Hanno detto, ma tutti sti remake reboot che si chiamano Legacy. Ormai è finita l'epoca dei Legacy, adesso è soltanto Superman. E, niente, James Gunn l'ha annunciato pubblicando la prima foto. Poi c'è stato anche un video su TikTok. Penso sul TikTok, non so se è sul TikTok di Rachel Brosnan. Vabbè, comunque, abbiamo visto i tre protagonisti principali sul set. Appunto, Rachel Brosnan, David Correnswith e Nicolas Hout. con una bella crapa pelata. Quindi, benvenuto nel club, Nicolas. Sono molto contento. Niente, non è che ci dice molto. Però, in realtà, voi che siete più esperti di fumetti di me, avete già riconosciuto questo bello ghetto. Quindi, chi è che ne vuole parlare? Ali. Non è che c'è molto da dire. Però il logo è molto bello perché è quello di Kingdom Come. Il logo creato da Rex Ross per una saga, per chi non avessero letto, Kingdom Come. Esatto, è una saga ambientata in un futuro distopico in cui i supereroi giovani non sono facilmente distinguibili dai delinquenti perché sono dei supervillain pure loro e quindi tocca alla vecchia guardia, a Superman, Batman e gli altri. Esatto, tornare in campo. Sì, però devi specchiare il fumetto se ce la fai. A parte, trova uno specchio e lo metti così per vedere il riflesso. Così sono bravi tutti. Devi specchiare l'immagine. Metti il fumetto davanti a te e lo specchio dietro, lo fai vedere. Ovviamente... Quando andava a caccia nei mercatini dell'usato. Eh beh, questi erano quelli che sono usciti in Medicola con Repubblica. Così è il fumetto, sì, era un collano. Ovviamente la storia non potrà essere quella, perché quella è ambientata in un futuro, in cui gli eroi sono vecchi, eccetera. Però, siccome il simbolo di Superman c'è questo problema che l'abbiamo visto in tutte le salse ed è una roba troppo vintage di suo, usare una versione stilosa che però ha una sua tradizione fumettistica dignitosissima, secondo me è una buona soluzione. Poi, tra l'altro, non è più uguale, perché ovviamente giallo-rosso come quello originale non è rosso e nero. Però è bello. Non so se Andrea, tu vuoi aggiungere qualcosa al volo. A me sembra che vogliano dare una bella rottura con il passato di Snyder, insomma, a prezzo. E credo che l'avere eliminato quelle legacy a livello di brand funzioni parecchio. Cioè, è solamente Superman. Non c'è il rischio di equivocare con c'è qualcosa prima, c'è qualcosa dopo. Superman. Un po' come The Batman. Anche perché hanno la fortuna di poter contare sul fatto che per avere un film che potrebbero ritornare al primo di Donner, e quindi tutti gli altri si chiamavano Superman qualcosa, numero, sottotitolo, eccetera. Anche il coraggio... Quindi tornare a un Superman è una buona trovata. Anche il coraggio di eliminare il D, perché potevano chiamarlo Superman. Quello però, qualche anno fa... Questo è un grande segnale di rottura, perché poi... Ma perché secondo me dovevano tradurlo letteralmente Batman in Italia, lo pronunciavi con un accento milanese anche, voglio un biglietto per il Batman. E invece no. E invece non l'hanno fatto. Pantegana volante. Potrebbe essere il Batman e invece niente. Va bene. Poi sono arrivate delle foto, ve ne mostrerò soltanto una, e quella foto ha rovinato l'infanzia di tantissime persone online. È questa. Raga, è vero. Cioè, esiste questo film. L'hanno girato. Cioè, è incredibile questa cosa. Questo film l'hanno girato e non è arrivata una singola foto dal sé. Niente. Io non ci credevo. Cioè, io non ci credevo. Quando ho detto sono finite le riprese, ma come sono finite le riprese? Com'è il corvo? Comunque un po' di attenzione su questo progetto? Niente. Sono arrivate le prime immagini ufficiali, cosa che comunque anticipa solitamente l'uscita di un trailer. Quindi vedremo un trailer. Ora sì, lo ammetto. Io sono molto affezionato alla pellicola diretta da Alex Proyas negli anni 90, come al fumetto in realtà. Ci provo pazzo all'epoca, quando ci fu il corbomania, diciamo. Nonostante, sta cosa penso sia innegabile, il film di Alex Proyas, per quanto ci sia affezionato, ha dei difetti. Difetti dovuti a una produzione troppo invadente durante la lavorazione, difetti voluti alla morte del protagonista, che poi non ha permesso i reshot necessari per le scene tagliate dalla censura, eccetera, eccetera. Insomma, la storia del film originale la conosciamo tutti. Però, vuoi la colonna sonora incredibile? Vuoi tutta l'atmosfera? Vuoi il fatto che erano gli anni 90, e un film del genere rappresenta proprio il culmine di un percorso cinematografico, musicale, anche della mia stessa vita? Comunque ci sono affezionato. E poi anche la suggestione, no? Esatto. Il fatto che Brandon Lee sia morto è un peso. Quello ha contato tantissimo. Esatto, esatto. Abbiamo visto con Heath Ledger e il Joker, insomma. Esatto, esatto. Si prende tante libertà rispetto al fumetto, diciamo. Molte altre libertà si era prese in realtà in corso d'opera, perché la storia stava deragliando, ma è una storia veramente lunga, quella della produzione del Corvo. Hanno fatto questo reboot, quindi non è un remake del film, è un'altra trasposizione del fumetto. Mi auguro che, oddio, dal look, no, ovviamente, c'è uno stacconetto. Tu, Ale, e ti farò parlare di questa cosa, perché nella newsletter di Screen Week hai scritto una cosa molto importante, parlando di questo film, perché, ovviamente, Blitz Garsgård, il look di Blitz Garsgård, che, ricordiamoci anche, che è specializzato in ruoli precedentemente interpretati da altri attori negli anni 90, che sono considerati irraggiungibili, perché già ci ha provato con Pennywise, e quando è uscita la prima foto di Pennywise, ma non sarà mai come quello degli anni 90. Così, adesso abbiamo visto la prima foto del Corvo, ma non sarà mai come quello degli anni 90. E il look è quello da Trapper. è proprio così, è proprio così. Non è nelle mie corde, però è anche vero che non si può giudicare un film da una sola immagine, quindi almeno aspettiamo il trailer prima. Ma tu, Ale, hai scritto nella newsletter di Screen Week che è appena stata spedita a chi hai scritto, e a chi non è scritto, trovate il link per iscrivervi in ogni nostro articolo, quindi alla fine, quindi fatelo. Cosa hai scritto? È stato bello e a chi non è scritto che non ci dobbiamo affidare delle generazioni future, che non ci dobbiamo affidare delle generazioni future e che il mondo penso andrà perduto, perché... Allora, mi sono posto questa domanda, a me ovviamente non piace, non piace ma per una ragione molto semplice, perché ovviamente sono legato alla figura di Eric Drummond come era Eric Drummond nell'originale, soprattutto per il discorso che faceva Filippo, cioè al di là di una faccenda estetica, il film aveva un suo senso perché il personaggio attingeva comunque a un tipo di musica che lo stesso Barra ascoltava e quindi c'era la forte influenza dei Cure. Lui, Eric Drummond, era uno dei tanti cugini di Robert Smith. Tutta la colonna sonora si collegava a quel tipo di immaginario, quindi avere un personaggio, un Eric Drummond che non sia più goth, che non sia più dark, ma che sia legato all'immaginario trapper fa strano, ovviamente. Però la domanda che mi sono posta è se lo avessero fatto simile a com'era Brandon Lee nel film originale. Tra l'altro Il Corvo era un b-movie girato con due soldi che era diventato un film epocale anche e soprattutto per la tragica morte del protagonista che gli ha dato, come diceva giustamente Andrea, uno status particolare. Si andò a vedere al cinema con quello stato d'animo anche triste perché si sapeva che il protagonista non c'era più. Cambiano le cose quando poi la curiosità di vedere come avessero girato un film le riprese del quale non erano ancora finite quando è successo quel tragico espadale e stupidissimo incidente che purtroppo è costato la vita a questo giovane attore. E quindi era una cosa irripetibile tant'è vero che tutti gli altri Corvo che sono usciti dopo cinematografici, televisivi, eccetera, non si avvicinavano perché il paragone con quello non leggeva, non si poteva leggere. Di conseguenza fare un The Crow per una nuova generazione che parli a questa nuova generazione per quanto a noi non piaccia ha senso, può avere senso. Poi ovviamente dipende dal risultato, dalla qualità del risultato, però la cosa a cui faceva riferimento Filippo è che io ho voluto fare con mia moglie ieri un piccolo test. Mia figlia non ha mai visto il Corvo, ovviamente non conosce Brandon Lee, non ha subito in alcun modo il fascino di tutta questa cosa. Le ho mostrato un'immagine del Corvo di Brandon Lee e questa immagine e le ho detto quale di questi... Sono lo stesso personaggio fatto da due attori senza dirle che uno non c'è più, eccetera. Quale ti piace di più? Di quale vedresti il film? E ha detto subito questo. Scarce Lab. Ma perché è normale per loro ha il look di cantanti che è una generazione di persone molto giovani, oggi non dico mia figlia che ha 9 anni, ma 12 anni, 13 anni, 14 anni, guarda. E quindi un tizio che non è tatuato ma che ha il look got pur conoscendolo loro perché noi ci sono pure le bambole got, però comunque è una cosa che vedono passata. Quindi l'idea di cambiare completamente il tiro alla fine indipendentemente dei nostri gusti potrebbe non essere così peregrina. Poi tutto fa la qualità del prodotto finale, no? Esatto, esatto. Dietro la macchinata presa troviamo, ti dicevo la parola, no, Rupert Sander che è regista che ha fatto Ghost in the Shell, Biancaneve il Cacciatore e vabbè, Andrea. No, dicevo, quindi forse potrebbe fare la differenza vedendo quello che diceva Alessandro, come lo propongono? Cioè, devi puntare magari a quel target che in un modo o in un altro potrebbe risponderti positivamente. A me, ridendo, ha ricordato tantissimo quando fecero il reboot di Devil May Cry, parlo di videogiochi, dopo il Dante con i capelli bianchi, molto cool, fecero il nuovo Dante che è identico a questo corvo. E niente, ho detto, ma hanno ripreso da là. Quindi, non so, vi dico, non è una cosa che ad oggi mi provoca chissà quale interesse. Vedremo già dal trailer un po' come cercheranno di organizzare il tutto. Esatto, esatto. Io dico sempre, facciamo sempre ironia sul fatto dell'infanzia rovinata, poi il film originale è sempre là, uno se lo può sempre guardare non cambia niente. Alla peggio esce un film che non ti interessa o che ti interessa ma non ti piace o che ti interessa ma che ti piace, cioè non ti cambia niente. i remake non cancellano il nostro passato. No, fortunatamente. Ricordatevelo. Che frase incredibile. Che frase incredibile. Poi infanzia rovinata il cacchio avevo 17 anni quando è uscito il corso. Infanzia rovinata la mazza, facevo già l'ultimo anno delle superiori. Sì, infatti. Va bene, concludiamo con l'ultima fotina che è stata diffusa è un altro film le cui riprese sono iniziate da un po'. In realtà, però, questa è la prima immagine ufficiale di Jared Leto, non lo sappiamo perché non è comunque la prima immagine ufficiale di Tron Ares, terzo capitolo della saga Disney lanciata negli anni Ottanta proseguita con Tron Legacy nel 2010 ne stanno facendo un altro. Io sono solo a fascino vi dico sinceramente poi magari c'è da voi la parola io soltanto sto soltanto aspettando che arrivino tutti gli aneddoti dal set riguardanti quello che ha fatto Jared Leto. Cioè, io sto aspettando solo questo. Ricordiamoci. Perché? Perché Jared Leto sul set di Blade Runner 2049 interpretava una persona ipovedente quindi si faceva accompagnare sul set perché lui non vedeva. Lui non vedeva. Perché lui non vedeva. Usa il metodo Jared Leto. Sul set di Morbius invece siccome interpretava una persona con problemi di ambulazione per andare in bagno si faceva portare dalle persone perché lui era sempre nel personaggio. E questo è Boris praticamente. Ricordiamo Filippo che scusa se ti interrompo ricordiamo che lui è l'unico uomo sul pianeta Terra che non sapeva della pandemia. Esatto. Ricordiamo che è l'unica persona che non si accorta che il mondo in quel momento aveva un problemino. Esatto. Che era andato in ritiro spirituale a meditare nel deserto. E dice ma cos'è questa cosa qui che ho trovato? E' tutto chiuso. Ma com'è? E' tornato e gli è scattato il Morgan a quel punto che si è guardato e ha fatto ma che succede? E' niente. comunque io aspetto soltanto visto che questa volta interpreta un'intelligenza artificiale che arriva nel nostro mondo voglio sapere cioè pretendo di sapere come ha stressato tutta la troupe e chi ha rotto la mazzarella dai insomma. Esatto. 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 E niente. Ho visto che c'è arrivata una domanda riguardante gli Oscar beh parlando di Oscar di Oscar parleremo sicuramente nella prossima live la prossima settimana perché ormai ci siamo sarà la live proprio che precede agli Oscar quindi sì sarà la live della prossima settimana dedicata agli Oscar non so se volete dire qualcosa su Tron Ares poi andiamo avanti. Io dico che adoro la saga di Tron anche se nessuno dei due film mi è piaciuto davvero cioè né il primo che comunque a cui sono molto legato ma c'è un sacco di difetti né tantomeno Legacy che vi dico come un'occasione sprecata ma che era comunque molto affascinante perché era una bella cosa e tutti i resti secondo me in 2010 quando si usava Legacy nei titoli e adesso poi James Gunn ha capito l'unica cosa di Tron che è veramente riuscita bene secondo me a Pricing che purtroppo ha avuto poco successo che è una serie animata bellissima e che non c'è manco su Disney Plus purtroppo ma se riuscite a trovarla guardatevela perché è veramente la cosa più bella di Tron quindi la speranza che facciano un film decente decente un film bello tutto tondo su Tron non l'ho mai perduto lo sai che mi trovo anche io del tuo stesso parere cioè non sono neanche io un grande fan delle storie raccontate nei due film però visivamente mi fanno proprio impazzire sì Andrea ma io sono d'accordo con voi nel senso che anch'io non è che sia un patito però c'è da dire che a livello di design le ambientazioni certo vedere l'evoluzione magari a distanza di diversi anni da Legacy potrebbe essere interessante comunque c'era un altro commento interessante mi è sfuggito che è andrete a vedere Strane e la Sala Professori e avete visto American Fiction su Prime allora in ignoranza dico non sapevo fosse uscito American Fiction su Prime no no è uscito su Prime così di botto senza senso è uscito ieri se non ricordo se non ricordo male è Strane lo vedrò do la precedenza a Dune però è un film che che mi ha colpito a partire dal trailer e mi ha fatto piangere a partire dal trailer quindi ho detto no lo devo vedere quindi mi aspetto una storia particolarmente intensa mi ha proprio stupito American Fiction perché mi era totalmente così di botto senza senso su Prime a fine gennaio fece addirittura delle storie proprio vedendo per informare su dove fossero i film degli Oscar e aveva American Fiction non pervenuto e invece so cosa fare nel weekend ti dirò di più a te che hai commentato io American Fiction l'avevo pianificato di vederlo ieri sera poi a un certo punto nella mia città è scattato il blackout di un'ora quindi ho potuto vederlo non l'ho più visto perché era c'era qualche nuovo divo che dovevano coprire capito che passava sotto al tuo balcone ma sai cosa vuol dire che mi sono seduto sul divano che bello ora me lo sparo pam blackout un'ora un'ora di blackout è tanto eh sì sì sono andato a dormire vabbè niente eh è così è così quindi lo recupererò stasera ho visto la zona di interesse invece settimana scorsa è una cosa incredibile come film va bene ma c'è un film che è arrivato nelle sale e adesso cedo la parola a voi perché io non posso parlarne facciamo questo simpatico giochino io andrò a vederlo domani il film in ogni caso però fate conto che sia il vostro amico indeciso che non sa se andare a vedere di un parte due o no quindi adesso facciamo questo siparietta raga non lo so due ore e mezza di film ma non è che è troppo pesante non sono tanto convinto di vederlo ma voi dite che va visto questo film vai Ale a parlare è il film di fantascienza più bello però ho fatto la scenetta quindi se non vuoi andarlo a vedere non c'è andare che tanto di te non ce ne frega niente nel senso che comunque l'importante è che l'abbiamo visto noi esatto ho letto ovviamente tanti complimenti rivolti a questo film e voglio prenderlo invece dal fronte contrario e affrontare subito l'unica critica che ho letto da qualcuno da parte di qualcuno a cui non è piaciuto che ovviamente ci sta a tutti piacciono le stesse cose e cioè che il film si prenderebbe delle licenze nei confronti del romanzo di Frank Herbert è vero ci sono tante differenze soprattutto nella parte finale del film che io ho apprezzato per due ragioni la prima e l'abbiamo fatto tante volte questo discorso è che un libro è un libro e un film è un film non è che devi fare la copia uno a uno e a me non interessa se vai a modificare i personaggi l'etnia vai a modificare non è questo il caso vai a modificare un elemento della storia se ad alcuni personaggi penso in particolare a Chan il personaggio di Zendaya che forse è quello più diverso rispetto al romanzo di Herbert perché fa una serie di cose diverse basta che lo spirito del romanzo lo cogli secondo me va bene e la cosa più affascinante di Dune di Herbert è l'ambiguità morale dei personaggi non è un film non è un libro romanzo non è una storia come Star Wars dove c'è il cavaliere buono con il suo aiutante la principessa e il cavaliere nero letteralmente salvo poi i rapporti di parentela che si scoprono è una storia in cui Paul Atreides è il buono ma sembra il buono ma il suo viaggio dell'eroe poi lo porta su una strada che uno dovrebbe chiedersi a quel punto ma è veramente buono come si parla di fanatismo religioso e di tanto altro chi ha letto la saga sa che soprattutto la progenie poi di Paul penso a leto secondo degli Atreides è uno stronzo a tutto tondo che sfrutta quello che il padre ha fatto prima di lui quindi non è una storia in cui ci stanno i buoni da una parte e i cattivi dall'altra per quanto gli Arconnen siano i tizi terribili e indifendibili questa ambilità morale secondo me è resa molto bene siccome si parla alla fine di un tizio d'origine francese che va in mezzo a un popolo medio orientale che è diviso tra l'altro in quelli del nord e quelli più terun che sono più babbaloni che vivono al sud ai quali quelli del nord fanno lo scherzo della cadrega probabilmente per sgamarli se sono o meno del nord il terreno era di per sé scivoloso e secondo me lui e l'altro cosceneggiatore di cui non ricordo il nome se ne sono usciti molto bene perché la storia conserva quel substrato di ambiguità morale che è uno degli elementi più interessanti del romanzo della saga di Herbert in cui si fondono religione politica ambizioni personale vendetta e tutto il resto ci sono alcuni attori che ne escono benissimo penso ad Austin Butler che nel ruolo che già fu distingati tamarro fascinoso col coltellino dai metti via quel coltellino a non fare lo stronzo per citare Ielio è uno dei personaggi più affascinanti del film forse un po' meno bene Florence Pugh nei panni della principessa di Rula ma perché ha poco tempo a disposizione per il resto Javier Bardem è come ho scritto da qualche parte credo su Instagram è René Ferretti in versione seriosa ed è fantastico in questo è davvero fantastico e il film è meraviglioso ma è meraviglioso perché è un film con un budget così grande così importante in genere è un film dalla mangiatoria bassissima che deve piacere a tutti che deve essere per tutti eccetera e invece qui assolutamente non rinuncia Denis Villeneuve a fare un film d'autore che ovviamente in una cornice fantascientifica e nell'ambito di una delle saghe letterarie più popolari della fantascienza di tutti i tempi però comunque è un film d'autore c'è tutta quella parte di J.D. Prime che chi ha visto il film sa ha una scelta stilistica molto particolare ed è bellissima da guardare come è bellissimo da vedere tutto tutto ha una colonna sonora e soprattutto degli effetti sonori che si integrano alla perfezione con le immagini e che rendono questo tipo di fantascienza visivamente diversa è stata tanta roba che abbiamo visto dopo decenni di film di fantascienza che sono tutti uguali che fanno i combattimenti tutti uguali con gli effetti tutti uguali è una boccata d'ossigeno enorme è una speranza per la fantascienza cinematografica io mi fidavo ciecamente di Villeneuve da quando ho visto il suo Arrival Arrival secondo me era ai tempi una delle cose più fresche che la fantascienza potesse offrire già con Blade Runner nel 2049 aveva dimostrato di potersi accostare a una property importante senza tradirne lo spirito e qui con questi due film di Dune ma soprattutto col secondo secondo me ha firmato un capolavoro e a questo punto il messia di Dune di cui lui ha già parlato più volte un terzo film se andavano bene i primi due eccetera lo deve fare io spero che questo incassi un fantastiliardo così glielo fanno fare lui ha detto oltre il terzo non mi spingerei quindi facciamo questo terzo film anche perché la storia si chiude ovviamente con delle vicende in corso e quindi fare questo lì il problema sarebbe poi adattare Messia di Dune che è un romanzo estremamente corposo in un unico film ma là ce ne andrebbero altri due ce ne andrebbero davvero un altro film diviso in due parti però mi ha colpito davvero tanto io chiudo dicendo questa cosa non ce l'ho necessariamente con i film di Thor e quella non è probabilmente fantascienza ma sono supereroi ma quell'effetto sonoro che hanno le astronavi di Asgard se ci fate caso l'avrete sentito in almeno altri dieci film di fantascienza fantascientifico distorto perché ormai si era arrivati al punto in cui non ti spiegavano manco le cose la sinossi dei film era in un mondo alla Blade Runner via andiato spiegato dai mettici due cartelloni luminosi con le pubblicità e abbiamo fatto e qui invece si fa attingendo bene all'universo di Dune di Herbert padre si fa della fantascienza che è diverso secondo le cose che sono veramente notevoli il modo in cui si muove dal ralentatore alcuni personaggi quando usano lo zainetto speciale è fantastico è davvero fantastico e sono d'accordo con quello che ha scritto Robbe su Screen Week nella sua recensione questo film fa sembrare la prima parte le prove generali il primo film che comunque era già molto bello di suo sembrare le prove generali di questo perché questo è veramente fuori scala secondo quelli che sono i miei personalissimi gusti ok un moderato entusiasmo quindi va bene Andrea tu invece che sei il più figo in questo trio che l'hai visto in anteprima con tutti i vips allora io penso di aver fatto uscito dalla sala la chiamiamola reaction io non faccio reaction di solito magari do un commento però era la mia espressione a caldo più sincera della storia perché io ero letteralmente stravolto di meraviglia cioè io mi sono ritrovato seduto in prima fila ma vedevo bene insomma e sono letteralmente stato rapito dallo schermo per due ore e quaranta io non mi sono mosso in quelle due ore e quaranta e sono uscito dicendo wow e questa penso basterebbe già per per dire insomma quanto quanto lo abbia amato allora seguendo un po' quello che ha detto Alessandro io penso che Vinnev già con Blade Runner 2049 avesse dimostrato quanto amore ha per il genere e per i cult per quei pilastri insomma letterari o cinematografici perché fare male Blade Runner 2049 era facilissimo cioè sbagliare quel film era di una facilità estrema riprendere Blade Runner e invece rielaborare un po' il tutto e dargli un seguito di quel tipo per me è solo che da da applausi quindi quando ci do il primo di uno ho detto mi fido andai in sala mi ricordo da solo e io quelle due ore e mezza che tanti mi hanno definito lente e lo capisco perché uno possa dire lente per me sono state letteralmente un viaggio è vero che il primo e il secondo sono estremamente diversi cioè il primo dire che è stata una sorta di prova di prova generale è verissimo perché effettivamente nel primo c'è solamente world building c'è una costruzione c'è farci respirare Arrakis e secondo me già quello non è poco perché farmi entrare così tanto in un pianeta che non è il mio farmelo vivere farmi effettivamente sentire quell'atmosfera non era facile e lo ha fatto e poi ovviamente ha portato avanti tutta la costruzione di un universo che è politico per cui tu devi avere le basi per arrivare a capire poi quello che accade in questo secondo però ripeto io capisco chi non ha apprezzato particolarmente il primo ecco se il primo non vi è piaciuto sappiate che il secondo potrebbe piacervi perché mantiene comunque questo questo ritmo che non è dei più rapidi però è un ritmo che si presta benissimo a raccontare tanta carne che viene messa al fuoco tante vicende e quell'ambiguità morale c'è si respira si vede e ti ritrovi spesso a chiederti effettivamente dove sia il bene dove sia il male cosa ci sia dietro cosa ci sia dietro a tutto ciò che sta accadendo quei contrasti tra personaggi che inizi a cogliere dopo aver effettivamente esplorato con il primo il mondo dell'imperium di questa galassia in cui le bene jesserit si muovono nell'ombra portando avanti dei modelli messianici che sono veri sono falsi cosa c'è di vero in quella profezia cosa è inventato ti ritrovi a chiederti effettivamente cosa sta avvenendo sullo schermo il tutto poi rappresentato in maniera tecnica che è ineccepibile io non riesco a trovare un difetto in quello che hanno fatto in quella di due ore e quaranta sinceramente tutti commenti troppo pacati però i due comunque leggo un attimo alcuni commenti non vedo l'ora è una vita che aspetto di vedere al cinema un film che mi coinvolge completamente rende bene il libro chiedevano lascio a voi la parola lo spirito del libro si preparati ad alcune differenze molto grandi in termini di alcuni personaggi ora non dico niente perché sennò qualsiasi cosa è spoiler però se avete visto la foto di un'attrice girare su internet che non è stata annunciata sappiate che quell'attrice si vede molto poco molto poco si si banalmente insomma nella famiglia di Paul uno dei personaggi che avete visto magari nella versione del film di Vinci dell'84 già adulto non c'è ancora ci sono delle differenze ripeto il persoggio di Cianni di Zendaya è quello che probabilmente ha subito più un cambiamento più forte perché deve rappresentare un certo punto di vista sull'operato di Paul mentre nel romanzo di Herbert Cianni è sempre dalla parte di Paul qualunque cosa faccia i due figliano già durante il romanzo Cianni è un po' una bussola morale Sì 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 qui invece il significato è un po' diverso del personaggio perché serve a dare anche un parè cioè a spingere il pubblico a interrogarsi su determinate scelte morali politiche che fa il protagonista del film Comunque per dire io sono un patito di fantascienza cioè come Filippo lo è di horror io amo la fantascienza e per me il problema tante volte è un po' quello che diceva Alessandro ci si è standardizzati negli ultimi anni per cui la fantascienza è ogni volta quella ed è mancata la capacità di usare la fantascienza per essere qualcosa di più ecco per cui devo dire che con Dune Villeneuve ha riportato una fantascienza d'autore per certi versi nel suo essere ovviamente un film che inevitabilmente è un colossal dovrà in qualche modo essere mainstream però ha riportato alla fantascienza una dimensione autoriale che mancava ed effettivamente solo prendendo un autore come Herbert potevi effettivamente portare sullo schermo ad oggi ok vi voglio fare una domanda fermo restando che cioè la domanda che vi sto per fare non annulla la bellezza del film che avete che avete descritto proprio visivamente e anche dal punto di vista di coinvolgimento la durata a me i film che durano due ore e mezza cioè tendono sempre a spaventarmi da questo punto di vista il primo film durava più o meno la stessa cosa forse 8-10 minuti in meno e scorreva comunque secondo me molto cioè scorreva comunque senza che la cosa ti pesasse perché quel tipo di ambientazione quel tipo di fotografia qui in secondo è pazzesca ti tirava dentro se ti tirava dentro non sentivi il peso delle cose cioè per fare un paragone ho detto tante volte non essere un grande stimatore della saga la saga di Peter Jackson del Signore degli Anelli quei sei film lì li ho vissuti in modo molto più difficile per la loro durata per la loro durata qui e questo si sente ancora meno perché c'è molta più succedono molte più cose succedono tanti eventi che nel romanzo sono occupano tre o quattro anni e che qui sono compressi nell'arco di un unico anno e quindi comunque gli eventi sono molto veloci uno dopo l'altro cosa che da alcuni non è stata capita cosa che da alcuni non è stata capita e ho letto qualcuno diceva vabbè ma com'è che prima poi si trova a fare questo e un attimo dopo sta facendo quello perché quell'attimo dopo in realtà non è un attimo dopo ma alcuni mesi dopo però al di là di questo secondo me scorre poi noi siamo anche abituati molto male siamo anche perché anche se i film adesso sono lunghi in realtà i film lunghi ci sono sempre stati non è un'invenzione dei nostri tempi è che i film di cassetta un tempo duravano un'ora e mezza o due ore al massimo non c'erano due ore e mezza di film con i supereroi però siamo molto abituati male perché alcune cose tipo la presenza di battute per ravvivare l'interesse del pubblico ogni diecimila la famosa formula di Kevin Feige siamo abituati a qualcosa quindi vedere un film che è tutto serio dove non ci sono battute dove non ci sono quel tipo di concessioni può sembrare ad alcuni lento perché non ci siamo abituati però voglio dire non è nulla di nuovo nel mondo del cinema una volta esistevano polpettoni di cinque ore erano normali secondo me non è due ore e mezza poi non sono tre ore e mezza tre ore due ore e mezza scorrono anche se non c'è l'intervallo basta fare la pipì prima anche se non c'è l'intervallo secondo me perché durante non si fa durante non è bello se non potete uscire per andare al pipì no ma anche se non potete uscire soprattutto perché non c'è l'intervallo durante pare brutto Andrea io sono d'accordo con Alessandro e prendo come altro esempio positivo Oppenheimer Oppenheimer dura tre ore e io quelle tre ore non le sento minimamente le due ore e 45 di Dune di Dune parte 2 io non le sento minimamente e vi dico non ho sentito nemmeno le due ore e 40 del primo se però posso capire chi un po' soffre il primo e dico ok se il primo avesse limato qua e là e fosse durato due ore e venti ci sarebbe anche stato dico che questo secondo è talmente denso di avvenimenti che non hai il tempo di annoiarti o di pensare sta durando troppo quindi secondo me ci sta i film che durano troppo secondo me sono altri per dirne uno secondo me Killers of the Flower Moon quelle sue tre ore e venti poteva evitare con buon rispetto per Martin Scorsese mi è sembrato un po' un film dove a un certo punto l'idea è stata famo lo durà perché sono Martin Scorsese con tanto rispetto per Martin però ecco lì l'ho sentito ad esempio come avrei fatto durare una ventina di minuti in meno Avatar la via dell'acqua per dirne un altro secondo me quando invece prendi dei film e quello che ha detto Alessandro su film di supereroi di due ore e quaranta due ore e quarantacinque sono d'accordissimo Black Panther Wakanda Forever due ore e quaranta no vi prego no sono d'accordo film d'azione tra virgolette più leggero e quant'altro due ore due ore e quarto e se siamo visti se ne andiamo a casa insomma ecco però secondo me questo di un parte due non è il suo problema la lunghezza perché poi il punto è proprio questo poi nei commenti ci hanno citato The Irishman anche ci sono tanti film che sottono le due ore canoniche vabbè attuali il problema è che per esempio con Oppenheimer sono d'accordo con te però è una delle rare volte che sono uscito dalla sala vedendo un film della durata maggiore di due ore e mezza tre ore quant'è che ho detto che ho detto eh però in questo caso non avrei tolto niente perché tutte le altre volte io una ventina di minuti da quello che racconti e da come lo racconto esatto questa è un'epopea spaziale ci sono tanti personaggi la storia si evolve i personaggi stessi hanno un'evoluzione come dicevamo prima quindi seguendo questa cosa non ti viene non dico noia ma quel momento di stanca di quando un film dici ah eh un attimo dipende poi da come lo racconti dal tipo di narrazione io ricordo di aver provato ero molto più giovane quel tipo di affaticamento anche per film che rivisti poi anni dopo normalissimi nel senso del ritmo del montaggio eccetera ricordo Dracula di Bram Stoker di Coppola quando lo vedi la prima volta c'era tutta la parte iniziale che a un certo punto dicevo eh ma quando andiamo avanti con questa storia perché è così magari perché ero un giovane minchione non capivo le cose però in realtà è una sensazione che provo molto spesso per i film quindi sono d'accordo però Oppenheimer è un altro film che tre ore ti passano stai lì rapito fa tanto fa tanto secondo me il tipo di accompagnamento sonoro che ha una pellicola esatto che quando parlavamo prima di Tron Legacy quando il sonoro ti tiene dentro una storia non permette alla tua testa di uscirne banalmente e quindi stai lì stai concentrato molti film che hanno la colonna sonora con pezzi che conosciamo che abbiamo sentito 50 volte altrove pezzi su licenza intendo ovviamente che copiano le colonne sonore anche se alcuni alcuni compositori tendono a fare sempre la stessa roba e sono da quel punto di vista non ti aiutano voglio dire no? perché Super Mario esatto Super Mario per esempio è un film che ho trovato pesantissimo alla seconda parte aveva proprio questo tipo di una seconda serie eppure è un film veloce adrenalinico però il modo il tipo di storia che raccontava il mettere semplicemente una dopo l'altra le situazioni alla Mario per allungare il brodo l'ho vissuto come una cosa al secondo tempo l'ho vissuto abbastanza la seconda parte ma Super Mario quello dell'anno scorso o lo storico? sì sì no 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 il film CGI recente ah ok no no non capivo sì sì ok vabbè perché quello alla fine dura anche abbastanza poco dai no no per dire proprio che è indipendente dalla durata cioè il discorso può essere anche un film ti può risultare pesante anche per un'ora e quanti film che abbiamo visto che durano un'ora e 40 di cui 20 minuti erano troppi però non potendoli fare dei mediometraggi di 50 minuti hanno deciso comunque ci hanno deciso alla fine hanno montato quello che ci avevano però a volte l'idea non ti legge assolutamente tutto il film no? esatto per dire qua c'è un commento dove dicono ad esempio Avengers per prendere esperienze opposte Black Panther Wakanda Forever 2 ore e 40 lo senti Endgame era talmente pieno di roba che tre ore vanno bene e alla fine se ci pensi è molto simile a di un parte 2 parte 2 in termini di contenuti quello che c'è no? vedi tanti personaggi l'alleanza le cose la battaglia quindi comunque di materiale ce n'è tanto il tempo ti passa poi anche non lo vivi nei commenti ci citano che è una cosa che sta succedendo anche nelle serie tv perché si tende ad allungare il brodo a fare episodi fileroni lì la colpa è di Netflix perché il problema si è presentato per la prima volta con il famoso muro contro cui ti schiantavi al centro di una serie Netflix arrivava in blocco 10 episodi tu arrivavi al quarto e quinto i primi tre l'azione bella la storia ti prendeva quarto e quinto sesto non succedeva niente settimo si metteva in moto ottavo non e decimo finivano la storia se vi ricordo te la serie Marvel di Netflix compresa bellissima serie di Daredevil avevano questo problema enorme al centro e tutti si dicevano ma perché hanno fatto due puntate in meno perché hanno fatto tre puntate in meno tant'è vero che la seconda di Iron Fist poi l'hanno fatto di dieci puntate per cercare un po' di equilibrare ovviamente lì anche un discorso di costi per carità però è vero l'allungamento nelle serie tv è un problema che si sente abbastanza spesso poi dipende ovviamente da che storia hai da che storia hai in mano ci sono serie dove quei sei episodi otto dieci non ti bastano e altre dove effettivamente dove mi stai portando e girano in tondo esatto esatto va bene se hai fatto una certa se avete qualcosa da dirla per concludere ditela adesso taccete per sempre speriamo di non taccere proprio per sempre per sempre no vabbè momentaneamente per questi secondi sì ok state tacere Andrea eri pronto a dire qualcosa no 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 stavo un attimo mezzo no no non mi permetterei mai ok guarda al massimo riandrò a vedere di un in IMAX tra un paio di settimane il tempo che che cala un po' è e vado in sala vuoi dire che vai con i comuni mortali cioè non vai con gli amici vips le anteprime cioè no con i comuni mortali sì sì mi stai dicendo questo ok va bene allora niente siamo arrivati al momento dei saluti allora come funziona la solita cosa vi devo ricordare sempre di seguire Screen Week seguiteci su Instagram ma già lo fate poi ci trovate anche su Facebook TikTok Twitter che non si chiama più Twitter ma si chiama X c'è il blog dove trovate tutte le news insomma tanti contenuti sempre ogni giorno per voi e chi altro vi dà cioè ma ogni volta devo stare qua anche a pregarvi cioè non mi pare il caso cioè voi voi dovreste cioè seguirci così spontanea volontà comunque niente va bene poi ci vediamo settimana prossima per appunto parlare di Oscar perché sarà la live che precederà la notte degli Oscar sta iniziando il weekend iniziando il weekend quindi non potete muovervi lo so che siete bloccati nelle vostre case perché non non sapete cosa fare finché non vi dico che potete uscire sballarvi ma non troppo perché il vero sballo è dire no dite sempre no tranne quando vi offrono una pizza in quel caso potete dire sì potete dire sì in quel caso potete tranquillamente dire sì oppure se vi invitano a vedere Dune allora potete dire anche sì va bene grazie Ale grazie Andrea grazie a voi che ci avete seguito avete commentato questa live se siete arrivati adesso tempo un minutino la trovate nel feed del nostro Instagram ma la trovate anche con qualche altro minutino sul nostro canale YouTube bene alla prossima buon weekend ciao a tutti ciao 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 ciao